Siamo qui al Maggio Musicale Fiorentino, nel Teatro Nuovo, a fare un'opera splendida. Come vedete già da qualche scenografia, siamo nel piano barocco, siamo nel Rinaldo di Georg Friedrich Händel, una delle opere più splendide della sua produzione, la prima fatta per l'Inghilterra. Siamo qua con la regia di Pier Luigi Pizzi, io sono Federico Mare Sardelli e abbiamo un cast di grande livello, Leonardo Cortellazzi, che è uno degli eroi della scena. L'Anlaustra Prima andrà appunto in scena il 7 settembre prossimo e quindi, che dire, sarà un'esperienza meravigliosa, saremo il primo teatro in Italia a riaprire post-lockdown, quindi il pubblico che avrà la fortuna di venire godrà dello stesso identico spettacolo che avrebbe goduto in assenza di pandemia. Sì, e questo anche grazie al fatto che è uno spettacolo appunto ricco, sontuoso, fatto su dei carri, con cavalli, con grandi spazi, uno spettacolo in cui non c'è promiscuità, quindi una regia già come se fosse stata già fatta a norma, non sapendo di quello che sarebbe poi successo dopo. Quindi venite ad ascoltare il Rinaldo di Georg Friedrich Händel al Teatro del Maggio Musicale di Fiorentina dal 7 di settembre. Al 13, con interpreti di caratura estetica e artistica, soprattutto estetica notevole. Purtroppo sì.